La bellezza di Thanos, vuoi o non vuoi, è stato che lo hanno gestito male. Cioè, tu pensa a questo, Thanos lo hanno gestito male. Non so se mi spiego. Cioè, se ti vai a leggere online, Joss Whedon, che è praticamente il regista dei primi due film degli Avengers, aveva detto che tra Avengers 1 e Age of Ultron non avevano alcun tipo di piano per il personaggio di Thanos. Lo hanno inserito nel primo film perché poteva essere un'idea carina, ma quando poi gli hanno detto di fare Age of Ultron, né la Marvel e né il regista, ma o meglio, penso più il regista, perché praticamente la Marvel ti dice quello che devi fare ogni tanto a livello narrativo, ma nel 90% dei casi i registi possono fare quello che gli pare. Cioè, se vogliono gestire un personaggio in un certo modo lo possono fare, no? Però ecco, Joss Whedon in quel contesto aveva detto che non avevano alcun tipo di piano per il personaggio di Thanos e hanno essenzialmente voluto rifare quello che si era visto nel primo Avengers. Poi Age of Ultron era un film che aveva fatto schifo per una miriade di motivi e quindi, capito, sotto questo punto di vista non aveva funzionato. Però la Marvel è stata furba, ovvero i fratelli russo, quelli che hanno fatto Infinity War e Endgame, e allora cosa hanno fatto i furboni? Hanno sfruttato al loro vantaggio la non presenza di Thanos all'interno della trama, ovvero che tu quel personaggio non l'avevi visto perché non c'era, se non qualche cameo, qualche cosina, anche nei Guardiani della Galassia, ma quello te lo potevi completamente dimenticare perché non aggiungeva quasi nulla. E quindi cosa hanno fatto? Te lo hanno fatto rientrare in pompa magna a livello narrativo, direttamente in Infinity War, così in questo modo potevano dire, guarda, se tu non hai visto tutti gli altri film della Marvel, adesso ti puoi guardare questi due film che vanno a concludere questa parte narrativa senza troppi problemi. E ok, sicuramente è una scelta che si porta di proprio antirischi, però alla fine ha funzionato. Perché cosa hanno fatto? Hanno essenzialmente sfruttato il primo film, ovvero Infinity War, per presentarci il personaggio di Thanos con il suo sacrificio che aveva fatto a ritornare in quel film, e poi sono ritornati sui nostri personaggi principali in Endgame per darci una bella risoluzione narrativa portando di loro. E ti ripeto, queste sono idee geniali, perché sono idee che vanno a sfruttare le pecche del tuo franchise. Cioè, capito? Non hai preso un personaggio che si era visto, che tutti lo conoscevano, no, tu hai preso un personaggio che si era visto in due scenette, più una terza assolutamente dimenticabile, e quindi la gente cosa sapeva? Esiste. Qualcosa la fa. Non si sa che cosa qualcosa la fa. E infatti questo lo puoi vedere, lo puoi vedere assolutamente non solo in Infinity War, ma soprattutto in Endgame, quando tornano indietro nel tempo. Quando tornano indietro nel tempo che c'è il Thanos del 2014, che mi pare che era quella l'annata, perché tu rimani sorpreso da quel Thanos? Perché tu comunque non l'avevi visto, c'è capito? La cosa interessante di vedere un'altra versione di Thanos, anche se più indietro nel tempo, è che tu comunque il personaggio non l'avevi mai visto in azione, e quindi anche quello ti va a colpire, sia come caratterizzazione del personaggio, che anche a livello di potere, insomma, livelli di potenza, insomma, tutti quei discorsi là classici da cinecomics. Capito? Quindi, se hai un'idea, le idee di questo tipo riesci a sfruttare anche al meglio quelle che sono delle pecche per come hai costruito il villain principale della tua prima saga narrativa. Però queste cose non le puoi fare sempre. E non le puoi fare sempre. Perché, per esempio, il personaggio di Kang l'hanno introdotto nella serie di cosola, di Loki. E lì ha funzionato tantissimo. Il problema però qual è? Che tu devi reintrodurre, cioè, devi letteralmente reintrodurre un personaggio che si è già visto, sotto tutta un'altra forma, in un film che, insomma, Ant-Man è un film che serve per far ridere. Cioè, ci puoi mettere la parte drammatica e tutto quello che vuoi, ma è un film in secondo piano della parte narrativa, no? Cioè, è come per dire, ti faccio un altro esempio, da tutti quelli che si aspettavano di vedere la grande risoluzione narrativa, o chissà che cosa, qualcosina di hype e tutto il resto, in Black Panther. Il Black Panther che era l'ultimo film della fase 4. C'è stato un accidente lì dentro. Perché, ti ripeto, alcuni film nascono per essere secondari. Non puoi pretendere che se ci vai a mettere Villain X assolutamente quel film diventa principale. Perché non lo è. Come anche, come anche, e che ne so, Thor Love and Thunder non era stato così importante a livello narrativo, assolutamente no. Tutti andavano a pensare a qualcosa legato ai Guardiani della Galassia e ci sono stati nei primi dieci minuti del film. Che so che è stato carino, ma sono dieci minuti. Come anche il film del... del Doctor Strange e il multiverso della follia. Ok, è bella l'idea del multiverso, ma Dio mio, che film brutto anche quello. Cioè, non che il film è brutto da vedere, ma è brutto a livello di franchise. Perché potevi veramente tirare fuori qualcosa di intrigante con l'idea del multiverso e alla fine lo hai ridotto semplicemente per fare dei cameo carini, ma che durano 5 minuti su schermo, e richiudere il tutto sempre e solo sul personaggio del Doctor Strange. Cioè, hai una caterva di personaggi, perché non li vuoi sfruttare? Non capisco questa cosa. Cioè, è strano, capito? Però a loro piace far così, e che possiamo fare? Alla fine, il capoccia di Ubi là, se ti ho, dell'amaro, ovvero che vim fai, che decidi tutto lui là, quindi... Contento lui, contenti tutti, immagino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.